Giro finito, tu hai avuto l'onore di indossare la prima maglia, quindi comunque è finita, grandi emozioni per te. Sì, è stato un Giro del Trentino che è partito subito bene, inaspettatamente, mi aspettavo di far bene ma non di partire così forte. E poi sull'onda dell'entusiasmo della seconda tappa in maglia, sono riuscito ad andare in fuga anche ieri, essere uno degli ultimi a mollare sul posto Re de Busch e oggi è un'altra tappa molto combattuta. Sì, ho deciso di sfruttare il momento, provare una fuga un'altra volta e diciamo che era anche abbastanza buona dal momento che è rientrato anche Moser sulla fuga, per cui le squadre erano quasi tutte rappresentate, solo che poi era entrato anche Rosa e logicamente lui con due minuti, solo due minuti in generale di ritardo, abbia smesso tutti di tirare e dietro sono rientrati, era logico che andasse a finire così. Noi abbiamo chiuso con Mendes, sesto in classifica generale, sempre che non sia cambiato qualcosa qua dopo l'arrivo e niente, sono riuscito a prendere anche la maglia tra i volanti, visto che ormai ero lì e ho detto, prendiamo anche quella. Che voto ti daresti in finale? Il Giro del Trentino è un bel lotto, è andato bene, sono contento soprattutto della condizione perché fino a due settimane fa quest'anno non era andata chissà che bene, nonostante un bel inverno ho sempre avuto qualche magagna e allora sono contento, speriamo che prosegua. Grazie, grazie.